come la strada non lo so ma hanno sparato perché ho perso il cespuglio da dietro un altro ci sono aiutato aiutato arrivando faccio ballare gente bello ora siamo a desembarrassi scemi capito guarda più all'ottici va avremmo è l'ultima partita di questa settimana la voglio però mi ha stato troppo aggressivo non metterà due tempi fa e mi usi troppo vabbè ma già mi sa sparare con la lancia radio se capite niente non lo vedi sempre uè dimmi no no dimmi dimmi sargenta c'è una cuffia che magari può funzionare di avere ruotare di avere apposta io funziona uguale boom meno uno eeeh non ho capito eh ma stavo pensando magari possiamo comprare una cuffia che non è proprio specifica per il gaming ma è una cuffia pensabile che ha così non c'è ma sta voglia di giocare la può sfrutta in altro modo eeeh solo le bits vuoi frana o se del genere le gente che ho le ho pagate 100 euro 100 da me no t'errato 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 eeeh per si l'azio ora fincata ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho non c'è un materiale non ho parole ok ok ma io sono quasi una boba io esci qua vai c'è la bai 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 io qua gg nel fratello abbiamo massacrato una squadra